Un decalogo per la creatività di Federico Faggin La creatività ci riempie di soddisfazione. Non c'è soddisfazione più grande di portare nuova luce sul mondo, malgrado gli ostacoli e le difficoltà che si incontrano lungo il cammino. Ciò è dovuto, secondo me, all'essere allineati completamente con la nostra missione più profonda. Ogni atto creativo porta avanti l'agenda di uno, di conoscere se stesso e di godere sempre di più della propria autorealizzazione.